Abbiamo deliberato nuove indicazioni per i collaudi dei porti turistici, una normativa più semplice e più snella che permetterà ai comuni, ma soprattutto ai concessionari dei porti turistici, di poter avere collaudi in tempi più brevi, in tempi più rapidi, con commissioni dove i componenti sono chiari, chi deve entrare e chi non deve entrare, ma soprattutto dare la possibilità alla portualità turistica di avere quello sviluppo. Noi abbiamo tanti porti che sono ancora in situazioni borderline, in situazioni di stallo, mancano i collaudi, mancano le documentazioni, c'è conflittualità nel comprendere quali debbano essere le documentazioni opportune, quelle no. Noi con questa delibera abbiamo regolamentato a livello regionale quelle che sono le indicazioni che servono per dare il collaudo, abbiamo fatto ovviamente un ottimo lavoro di collaborazione con le autorità portuali competenti e quindi per dare ai colori quali devono ottenere le concessioni, le autorizzazioni portuali, ad avere quindi una chiarezza di che cosa serve, come si devono muovere, come devono procedere per avere finalmente in tempi rapidi questi collaudi che spesso diventano troppo lunghi nel tempo e troppo difficili da ottenere.